Ieri sera è uscita la lista per i partecipanti della Masters Olympia che ritorna quest'anno in Romania Questa è la lista per l'Open Bodybuilding, poi c'è una lista per il 212, per le classiche physique e anche per le mie physique e poi per tutte le altre categorie femminili Comunque questa è per l'Open, magari poi in futuro qualcuno si aggiungerà e molto probabilmente qualcuno si toglierà dalla lista Il primo della lista è Fred Small, ho visto che ha fatto diversi Olympia, 10 anni fa per esempio, ha fatto diversi Olympia, anche diversi Arnold Classic E sulla sua bio c'è scritto che ha vinto il premio Best Poser all'Arnold per 3 volte Quindi a quanto pare è un buon posatore, non so se daranno il titolo di Best Poser alla Master Olympia, non ho la più pallida idea Comunque le regole per gareggiare la Masters Olympia sono che deve essere un AFBB Pro, quindi deve aver vinto la Pro Card E deve essere over 40, pensavo che era over 45 ma a quanto pare è over 40 Poi il secondo che conosco, un ritorno veramente molto molto interessante, Joshua Lenarzovic Che aveva già annunciato che sarebbe ritornato sul palco quest'anno, però non mi sarei mai aspettato sul palco della Master Olympia Joshua Bodybuilder che negli ultimi 10 anni ha fatto veramente molti molti risultati, ha vinto molte gare Pro Ha fatto anche parecchie Olympia dove è arrivato molte volte in Top 10 L'ultima gara che ha fatto è stato nel 2020 quando ha fatto l'Arnold Classic e poi non ha più gareggiato perché ha avuto problemi sia fisici che per quanto riguarda il Covid Perché lui essendo australiano in Australia avevano chiuso tutto per due anni, quindi non ha potuto né viaggiare né allenarsi E poi appunto ha anche avuto un problema di salute, è stato operato per un tumore al cervelletto se ricordo bene Ed è stato anche in coma per questo Comunque il ritorno veramente molto molto interessante Non so se vuole fare solo la Master Olympia oppure se è intenzionato a fare anche qualche altra gara Pro Per magari provare a tornare sull'Olimpia, sull'Olimpia vero ecco Però veramente il ritorno è veramente molto molto interessante Poi il prossimo che conosco, che tutti noi conosciamo è Max Charles Che forse ha capito che non può più ambire al palco dell'Olimpia Quindi forse ha capito che l'unico Olympia a cui può gareggiare è la Master L'anno scorso aveva fatto un sacco di gare e al massimo era arrivato al terzo posto con line up molto molto scarso Quindi il suo fisico è in discesa Quest'anno non ho ancora gareggiato, l'ultima gara che aveva fatto era l'Ardon di Uchi l'anno scorso E non so neanche se quest'anno si è intenzionato a fare altre gare di qualifica Però penso di sì perché lui è uno che negli anni ha sempre gareggiato un sacco Ha fatto veramente molte molte gare, minimo 4-5 l'anno Quindi penso che farà anche altre gare Pro Poi c'è Kamal Ilgarni che questa era una partecipazione molto molto pronosticabile Era da mesi che diceva che voleva fare la Master Olimpia a 52 anni Ha fatto anche l'Ardon Classic qualche mese fa a Columbus Lui forse è quello che mantiene meglio il fisico perché non ha mai smesso di gareggiare E ecco negli anni si è molto molto preservato E forse potrebbe anche vincere Non ho idea di chi potrebbe vincere questa gara però secondo me sarà una bella battaglia Poi c'è Phil Klahar, l'uomo senza età di 48 anni Che negli ultimi due anni ha sorpreso veramente chiunque Un po' meno l'anno scorso Spero che faccia molto bene alla Master anche perché mi sta molto simpatico E penso che farà anche altre gare di qualifica Poi per il resto nella Open che conosco c'è Slavoit Berdner Che ha fatto anche l'Ardon Classic Brasile due settimane fa E basta C'era, doveva esserci anche Aldo Masolo Bodybuilder italiano Ma ho visto che si è infortunato, si è strappato il tendine del tricipite E quindi non riuscirà a gareggiare purtroppo Poi nella 212 di nomi che conosco ce ne sono solo due Ovvero David Henry e Iteada Yamagishi David Henry vincitore più volte dell'Olimpia 202 Ancora si chiamava 202 prima di 212 Ha vinto le prime due edizioni Lui continua ancora a gareggiare Aveva fatto una gara in Irlanda l'anno scorso In cui era arrivato secondo E ora farà anche la Master Olimpia Forse quello un po' più quotato per la vittoria Anche perché non conosco gli altri nomi onestamente L'altro che conosco è Iteada Yamagishi Che aveva già annunciato qualche settimana fa Che avrebbe fatto questa gara Iteada Bodybuilder storico degli anni 10 Ha vinto anche l'Ardon Classic 212 Tipo nel 2015 Ho visto i video che stanno mettendo su Instagram Super super tirato Però si vede che il suo fisico Si sta quasi riasciugando Non c'è più quasi muscolo Si sta veramente prosciugando Quindi non so se lì convenga tanto fare questa gara Però contento lui, contenti tutti Aveva fatto l'ultima gara tipo nel 2020 All'Olimpia E poi non aveva più gareggiato Comunque in bocca al lupo a questi due Poi nel Classic Isic è molto interessante Perché abbiamo Alex Cambronero Che non sapevo fosse un over 40 Non me lo sarei mai aspettato E in più abbiamo Darren Charles Bodybuilder storico Che ha fatto un botto di Olimpia negli anni 90 Negli anni 2000 E ha fatto anche i primi due Olimpia nel Classic Isic Nel 2016-2017 Però mi stupisco di Alex Cambronero A quanto pare Li piace vincere facile Perché è l'unico che Ecco gareggia ancora E mantiene ancora un buon fisico Quindi penso che vincerà tranquillamente lui questa gara Ha fatto anche l'anno Classic Due set di due mesi fa Quindi penso che vincerà lui tranquillamente questa gara E poi c'è il ritorno di Darren Charles Che non greggia appunto dal 2017 L'Olimpia Classic Isic Ha fatto veramente un sacco di Olimpia Non so se l'aveva fatta anche Perché la vecchia Master Olimpia del 2012 Non ho la più palle di idea Ma mi pare di no Però mi pare di no Comunque lui ha sempre avuto un fisico bellissimo Quando era al suo top Negli anni 2000 e 90 Un fisico veramente super super proporzionato Con delle belle forme Un'ottima condizione Veramente un fisico super super bello Non esagerato ecco Non aveva un fisico esagerato E negli anni si è sempre mantenuto così Perché non ha mai voluto strafare ecco Però qui penso che vincerà tranquillamente Alex Cambronero Gli piace vincere facile E poi nei Man Physique abbiamo un italiano Abbiamo Andrea Mosti Che neanche lui sapevo Fosse un over 40 Non lo sapevo E conosco solo lui E Yussef Dudi L'ultimo nella lista Gli altri purtroppo non li conosco Ma in fisico è un po' diverso Giudicare Va a seconda del gusto dei giudici Quindi non si possono fare pronostici Secondo me in questa categoria Comunque questa era la lista Dei partecipanti della Master Olimpia 2022 A meno che qualcuno in futuro non si aggiungerà O anzi sicuramente qualcuno si toglierà dalla lista Purtroppo succede sempre Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere cosa ne pensate di questi nomi E le vostre aspettative Fatemi sapere Vi chiedo alla commenta come al solito E ci vediamo un nuovo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti